Gli automobilisti cremonesi, per evitare molte, dovranno studiarsi bene tutte le novità introdotte dal 1 settembre con il nuovo piano della sosta e mobilità in centro storico, in quale data si entrerà a pieno titolo nella prima fase sperimentale. Perciò in questi giorni gli addetti dei vari settori e servizi comunali sono al lavoro su vari fronti, dalla predisposizione delle ordinanze, più di 30 indispensabili per disciplinare la viabilità, al restyling dei parcheggi. Sono previste infatti nuove possibilità per la sosta dei residenti e di chi vuole recarsi in centro. Verranno semplificate le tariffe con l'introduzione della zona tariffaria denominata 1 a forte rotazione e un sistema sempre più concentrico con ticket minori sul perimetro del ring, ossia del centro storico, e più elevati all'interno di esso. Ci sarà inoltre la possibilità di fare un abbonamento mensile serale e notturno per il parcheggio La Marmora di Via Villa Glory ad un importo di 20 euro anziché degli attuali 30 per incentivarne l'uso. Il Comune è all'opera anche per posizionare la segnaletica verticale che riporta il cambio degli orari di alcuni dei setti varchi elettronici a tutela dell'area pedonale della zona traffico limitato, Piazza Roma incrocio via San Filippo, Via Verdi incrocio Piazza Stradivari, Via Cesare Battisti incrocio via Manzoni, Corso Garibaldi incrocio via Villa Glory, nella quale la velocità massima consentita sarà di 30 km orari. Sarà però consentito l'accesso nella ZTL, compresa tra i varchi di Piazza Roma e di Via Verdi, alle auto elettriche e ai veicoli ad alimentazione ibrida di nuova immatricolazione, previa richiesta di permesso di transito. Da Ferragusto è iniziata un'ampia campagna informativa in merito alle novità introdotte, ma oltre a questo, a partire da martedì prossimo, a ridosso dei varchi elettronici e dei parcheggi a forte rotazione, ci sarà un presidio di agenti della polizia locale e ausiliari del traffico, il cui compito sarà quello di informare gli utenti delle nuove disposizioni.